La 22esima edizione del concerto nel Bosco si è tenuto nel Parco Cini a San Marcello. I ragazzi delle Vosa Quartet, Nedi Nencini e Malanza al violino, Niccolò Prisentini alla viola e Martina Bellesa al violoncello, hanno deliziato il numeroso pubblico suonando musica di Puccini. Sì, questa è la 22esima edizione del concerto nel Bosco, che è un'esperienza che si gode tutta la montagna pistoiese, ma è prevalentemente stato organizzato sulla frazione di San Marcello Pistoiese. Quest'anno abbiamo con noi l'orchestra da camera fiorentina, un quartetto di ragazzi che suoneranno per noi un omaggio a Giacomo Puccini, in quanto è l'anniversario, il centenario della sua morte. E quindi in un contesto straordinario che è il Parco Cini, dobbiamo ringraziare la gentilezza e l'ancoglienza del signor Andrea Dazzi, proprietario, riusciamo a goderci questo spazio che lui condivide oggi con noi, con tutta la cittadinanza che vorrà raggiungerci. e godiamoci questo concerto.